Mi proiettino un po' le diapositive. Io ringrazio dell'invito. Avevo preparato un po' di diapositive e non vi annoierò, cercherò di andare più rapido possibile. Sto fermandomi soprattutto sui concetti fondamentali. Questo è stato detto che c'è proprio un alto tasso di incidenza dell'autismo e quindi è necessario che tutto il sistema sanitario si prepari ad affrontarlo. È stato detto anche che è importantissima una diagnosi precoce e che poi porta anche a un trattamento tempestivo di questi disturbi dello spettro autistico che possono modificare in modo sensibile l'evoluzione del disturbo. E quindi è qui che gioca un ruolo abbastanza importante il pediatra di famiglia non solo nell'individuazione, nell'invio, ma anche alla collaborazione con le strutture di secondo e terzo livello. E anche poi, molto importante, il ruolo del pediatra di famiglia per sopportare le famiglie una volta che è stata formulata la diagnosi. Pediatra di famiglia, qui è specificato qual è il ruolo, lo specialista formato per la tutela globale del bambino, per tutto l'arco della crescita, eccetera. E soprattutto, oltre che la diagnosi e la cura, la sua funzione principale è quella della prevenzione e dell'educazione sanitaria. Qui è riassunto in questa tabella quelli che sono i compiti del pediatra di famiglia, arrivare a una diagnosi precoce, portare a un intervento riabilitativo e quindi individuare più precocemente possibile i bambini di cui abbiano un sospetto di autismo e inviarli nei centri opportuni dove verrà fatta o meno la diagnosi definitiva. E anche integrarsi in questa rete che poi assisterà a questo bambino. Si trova in una situazione, il pediatra di famiglia è una situazione, diciamo, privilegiata perché ha un modo di osservare direttamente il bambino sin dalla nascita o quasi, può permettersi un'anamnesi accurata, si instaura spesso una reciproca fiducia con i genitori, il pediatra conosce il passato, osserva il presente e anche sia del bambino che della famiglia. E quindi, oltre ad avere il sospetto, deve tenere sotto controllo il bambino fino a quando più o meno questo dubbio viene dissolto oppure c'è la conferma della diagnosi. Ed ecco qui un momento particolare nell'attività del pediatra, è quello che oltre alla sua attività clinico-assistenziale, eccetera, eccetera, il pediatra dedica ai propri pazienti in epoche ben precise dei momenti particolari, cioè sono delle visite particolari che esegue soprattutto quando il bambino gode buona salute. Quindi rappresentano un'occasione privilegiata proprio per fare una valutazione dello stato psicofisico il più preciso possibile. E in questa fase il pediatra di famiglia deve imparare soprattutto ad ascoltare i genitori che sono quelli che indicano che qualcosa non va e che di solito danno delle informazioni che sono molto importanti per rendersi conto che si è di fronte a un problema. Anche come è stato detto, anche se i primi segnali di un disturbo dell'aspetto al spirito possono anche manifestarsi in seguito anche in bambini che presentavano inizialmente uno sviluppo normale, diventano silenziosi, eccetera. Ed è chiaro che una volta che il pediatra ha effettuato uno screening, se ha il dubbio lo deve inviare in maniera tempestiva presso i centri. E qui è un po' l'algoritmo sia di screening ma di sorveglianza. Il bilancio di salute, e non mi soffermo perché è chiaro che il bilancio di salute è il punto di partenza, però una volta che si ha il sospetto o anche se non c'è il sospetto, il bambino poi verrà controllato successivamente. Qui in tutte le regioni d'Italia sono previsti dei bilanci di salute per il lavoro del pediatra di famiglia. Questi sono i bilanci di salute della Regione Lazio. Ecco, mi soffermerei soprattutto tra il 22esimo e il 24esimo mese, dove può effettuarsi la valutazione della chat, anche se sappiamo benissimo che anche in epoche precoci, se il pediatra riesce a rilevare dei segnali, spesso ci sono anche in bambini a 4-9 mesi, oltre che, come è stato detto, anche oltre i 5-6 anni. Questo è un po' uno schema dei bilanci di salute e quelle che sono le competenze di cancelling da parte del pediatra, proprio per la valutazione dei vari aspetti funzionali, motori, sensoriali, cognitivi, ecc. Qui c'è stato già un gruppo di lavoro di cui faceva parte anche la Federazione Italiana Medici Pediatri per la valutazione e promozione dello sviluppo psicomotorio già al primo mese e poi tra 0 e 3 anni, con le valutazioni principali da tenere presente. Questo è Pediatris che accenna proprio che tra il 18 e il 24esimo mese potrebbe essere effettuato la chat, in cui, non mi soffermo, vado rapidamente, due sezioni in cui una è dedicata alle osservazioni che abbiamo detto molto importanti, riferite dai genitori che confidano già al pediatra che qualcosa non va nel linguaggio, nell'atteggiamento, soprattutto se si tratta di un secondo figlio. e poi, ecco, questo è il vero schema della chat in cui va compilato rispetto alle risposte fornite dai genitori tenendo presente soprattutto il punto A5 e A7. Poi, questo invece è un altro schema che si basa sull'osservazione diretta da parte del pediatra. Qui sono le valutazioni che poi portano a considerare un rischio alto, un rischio moderato e più o meno a un'osservazione, ma soprattutto all'invio al neuropsichiatra infantile per la conferma o il risolvimento della diagnosi. Quindi il ruolo del pediatra è ascoltare i genitori, intervenire precocemente, inviare e poi soprattutto monitorare in seguito e non è finita lì quello che è il compito, l'opera del pediatra, deve proseguire con i bilanci di salute e soprattutto intervenire quelle che sono le condizioni associate all'autismo che sappiamo che ne sono varie oppure anche le normali malattie, influenze, vaccinazioni, eccetera. Quindi intervenire nel monitoraggio del bambino e far parte di questa rete che si dovrebbe formare tra il territorio, il pediatra di base, l'ospedale e gli altri specialistici. Ed ecco qui che, ahimè, uno dei problemi è che noi pediatri di famiglia a livello universitario non siamo stati preparati anche a riguardo di questo. Io sento con tutta umiltà di dire che è necessario che si aumenti anche la formazione dei pediatri proprio per essere più efficaci nel loro intervento a riguardo di questo problema dell'autismo. Concludo rapidamente, quindi il pediatra deve prendere in carico globale questo bambino e la famiglia e il suo intervento deve essere integrato in una rete. Ecco qui, prima si parlava del regionalismo o meno spinto. Potremmo nel Lazio rifarci anche un progetto della Toscana che ha stabilito uno screening a tutta la popolazione infantile proprio per una individuazione precoce del disturbo. E io metto qui un punto interrogativo. la chat può essere uno screening universale che noi pediatri di famiglia dobbiamo fare ai nostri pazienti. È necessario una formazione, è necessario linee guida, una rete. Però ecco, rapidamente, penso di essere nei tempi, quello che va costruito è una conoscenza reciproca tra i vari membri della rete, una comunicazione tra gli stessi, la facilitazione dell'accesso ai servizi e va focalizzata l'attenzione sul bambino e sul genitore più che sulle nostre esigenze di singoli professionisti. Quindi è un sistema complesso. Operare in rete è difficile, forse non siamo culturalmente preparati, ma dobbiamo esserlo proprio per l'interesse di questi pazienti. Vanno condivisi e promossi percorsi di assistenza con individuazione del ruolo di ciascuno dei membri della rete. Cioè sapere qual è il ruolo del pediatra, qual è il ruolo del neuropsichiatra, eccetera. Quello che manca anche, e dobbiamo fare tanto sulla comunicazione tra i livelli assistenziali, perché è scarsa la conoscenza reciproca, è difficile identificare la corretta interfaccia e il passaggio di informazioni è quasi sempre in carico al genitore ed è condizionato da un grave carico emotivo ed impedisce anche un intervento soprattutto nella seconda fase da parte del pediatra. Grazie per l'attenzione.